Io sono Maggiore Gian Mario, sono titolare dell'azienda One Electric, ci troviamo a Bergamo e siamo i referenti per la Lombardia per la Gobo Service. Conosciamo da tempo ormai Luca e Gobo Service abbiamo ricevuto la richiesta di poter commercializzare i loro prodotti e abbiamo accettato con buon successo. Devo dire, negli ultimi tre anni abbiamo fatto sempre più quello che è la vendita, il noleggio o comunque la commercializzazione dei loro prodotti. Tre anni fa quando abbiamo approcciato il suo progetto e la sua richiesta è stata una novità anche per noi, quindi con difficoltà ci siamo messi a fare una cosa che non avevamo mai fatto, ma piano piano siamo riusciti a cavarcela. L'installazione di Presezzo è nata sempre da una richiesta di contatto che è arrivata sempre tramite il web, si sono arrivati a noi e avevano fatto una richiesta di illuminare la piazza in modo che venisse proiettata dalla neve che cadeva da una parete ma anche proiettata verso il pavimento, ha avuto molto successo. La proiezione di alberi con la neve che cade da dietro, che sullo sfondo c'è la neve che cade. Gobo Service è un'azienda molto dinamica, quando li chiami ti aiutano, sei un problema, sei un dubbio, hai una risposta nell'immediato. Hanno veramente voglia di fare e sono veramente competenti. Poi hanno anche competenze tecniche perché comunque quest'anno hanno sviluppato un proiettore, due proiettori, il GoLux 600 e il GoLux 1000 che sono due dei prodotti e hanno potenzialità enormi, specialmente dalla lunga distanza. Davvero dei prodotti che vanno a colmare un po' un pezzo di mercato che prima non aveva posto perché non c'erano proiettori che potevano arrivare a fare quello che fanno loro. E lo zoom è comodo, lo zoom è valido, lo zoom è versatile, lo zoom ti trovi a qualsiasi distanza, ti regoli. Questi proiettori invece ti danno la possibilità di coprire anche l'illuminazione a volte presente e non avere problemi di installazione. Grazie a tutti.